Dal Vangelo secondo Giovanni Una buona domenica a tutti. Sentiamo spesso ripetere considerazioni amare sulla situazione attuale della nostra Chiesa. Il momento è indubbiamente difficile, i dati sono sconfortanti, tanti se ne vanno, alcuni delusi nelle loro attese, altri attratti da nuove prospettive di vita o sedotti dalle attrattive della mondanità, della secolarizzazione. Sentiamo parlare anche del pericolo di scismi, di posizioni eretiche, cosa sta succedendo nella nostra Chiesa. Poi come ci dobbiamo muovere in questo momento che è indubbiamente di crisi. Molti suggeriscono che è necessario adattarsi ai tempi nuovi, non si può rimanere ancorati, dicono, a concezioni del passato. E questo può anche essere vero, ma per alcuni significa che è necessario adattare il Vangelo alla realtà di questo mondo. Certi principi, certi valori predicati in passato oggi non sono più di moda e allora bisogna rassegnarsi alla realtà di fatto, altrimenti si viene tacciati come retrogradi medioevali. Questa è una risposta. Altri invece denunciano pericolosi sincretismi con il mondo, con altre religioni, mettono in guardia dai cedimenti alla cultura dominante pericolo di scendere a compromessi con la logica di questo mondo che nulla ha a che vedere con la logica evangelica. Nel brano evangelico di oggi ci viene offerta una luce preziosa per leggere bene il momento ecclesiale che stiamo vivendo. Nelle scorse domeniche noi abbiamo ascoltato e riflettuto sul discorso fatto da Gesù a Cafarno. Ricordiamo che i giudei lo hanno contestato e oggi, alla conclusione di questo discorso, l'evangelista registra. Perplessità, smarrimento anche fra i discepoli. A Cafarno è accaduto qualcosa di molto simile a ciò che stiamo sperimentando noi oggi. Sentiamo. Molti dei discepoli di Gesù, dopo averlo ascoltato, dissero, questa parola è dura, chi può continuare ad ascoltarla? Fino a questo punto del suo discorso, Gesù ha avuto come interlocutori le folle e i giudei che fin dall'inizio gli hanno rifiutato la loro adesione. Non potevano accettare che lui si presentasse come l'incarnazione della sapienza di Dio. A questo punto cambiano gli interlocutori, entrano in scena i discepoli. Coloro che gli hanno dato la loro adesione hanno creduto in lui. E che cosa accade con i discepoli? Si rendono conto che c'è stato un equivoco. Loro hanno dato l'adesione a Gesù pensando di ricevere da lui onori, gloria, ricchezza, successo e adesso non ricevono queste cose, ma sono invitati a donare la vita, non a ricevere i servi, ma a diventare loro servi. E non era questo che loro avevano in mente, avevano altri sogni. A questo punto tirano una conclusione molto amara. Dicono questa parola è dura, chi può continuare ad ascoltarla? Cos'è questa parola dura? Era stata dura fin dagli inizi la parola di Gesù per le folle e per i giudei che l'avevano subito rifiutata alla pretesa che lui fosse l'uomo riuscito, l'uomo perfetto. I discepoli sperimentano adesso la durezza della sua parola quando ha detto che era necessario assimilare la sua carne. Carne non sono i muscoli, è la sua persona, è la sapienza di Dio che si è fatta uomo in un carpentiere, ha assunto tutte le fragilità della nostra condizione umana. E quando si rendono conto di questo, dicono, è una proposta dura, duro, sclerosi in greco, è come quando uno va a sbattere all'improvviso contro un qualcosa che non si aspettava e si fa male. Era distratto, si sveglia perché andò a sbattere contro qualcosa di duro. Bene, ai discepoli è successo qualcosa di simile. il discorso di Gesù per loro era stato soffice, dolce fino a quel momento, fino a quando sono stati chiamati in causa e invitati a fare una scelta, a decidere della loro vita cosa volete fare della vostra vita. E quando Gesù ha detto che era necessario assimilare la sua persona, la sua carne, hanno sentito la botta, hanno capito che cosa comporta seguire lui. Le folle lo avevano seguito per farlo re. Avevano visto compiere prodigi e pensavano che avrebbe fatto tutto lui, avrebbe creato lui il mondo nuovo da solo. Non avevano capito che lui aveva dato i segni di questo mondo nuovo che doveva essere costruito poi da loro fidandosi della sua parola. Le folle avevano equivocato, lo avevano seguito pensando di avere a disposizione uno che avrebbe risolto con i miracoli i problemi concreti della loro vita. I discepoli a loro volta lo avevano seguito coltivando i loro sogni. Insomma, si aspettavano favori per la vita che perisce e adesso capiscono e molti discepoli se ne vanno. Troppo dura questa richiesta che lui fa. I discepoli hanno capito che mangiare la sua carne significa decidere di unire la propria vita alla sua. E quando si capisce questo la conclusione non può che essere quella a cui sono giunti gli interlocutori di Gesù a Cafarnao. Proviamo a fare una piccola verifica della nostra vita. di fronte a ciò che è accaduto a Cafarnao, ai discepoli, siamo noi quei discepoli. La prima domanda, accostandoci a Cristo, abbiamo provato la durezza di ciò che lui ci chiede? Abbiamo sentito questa botta questo dolore perché abbiamo sbattuto contro qualcosa di duro? Se noi pensiamo che aderire a Gesù significhi qualche preghiera, qualche opera buona, che segno di croce, un pellegrinaggio, sono cose buone. Ma questa è tutta roba soffice. Se siamo fermi a queste pratiche, non abbiamo ancora sbattuto contro la proposta evangelica. La crisi diviene inevitabile quando si capisce cosa significano le sue beatitudini. È allora che ci si rende conto che forse sono state coltivate delle attese sbagliate. Chiediamoci, cosa proviamo noi quando ci accostiamo al banchetto eucaristico? È un'esperienza soffice, dolce o è un'esperienza dura? Se è soffice e intimistica non abbiamo capito. Tu guardi quel pane che è Cristo e cosa ti dice quel pane che è Lui? Ti dice io mi sono fatto pane, ho donato tutto me stesso, mi sono offerto come alimento di vita, mi sono fatto servo. Adesso te la senti di unire la tua vita alla mia? Vuoi anche tu donare la tua vita al fratello? Quando anche si trattasse di uno che ti ha fatto del male ma adesso ha bisogno di te, sei disposto a donare la tua vita per Lui? E se capisci questo tu senti che è dura la decisione che stai per prendere. Se provi il dolore di avere sbattuto contro questa richiesta allora hai capito cos'è l'Eucarestia. Se non senti questa durezza allora ti stai accostando all'Eucarestia senza frutto. E poi c'è un'altra verifica che tanti cristiani devono ancora fare. Sono quelli che assomigliano alle folle di Cafarno e quelli che vivono in un equivoco. Si attendono da Gesù ciò che Lui non ha mai promesso e non darà. Si accostano a Gesù perché ritengono che da Lui riceveranno nella vita dei vantaggi, Lui li scamperà dalle difficoltà della vita che è difficile tante volte in questo mondo perché ci sono malattie, dolori, prove. Loro siccome pregano Gesù verranno privilegiati. Quando capiscono che Gesù ci insegna non a ricevere ma a donare, a divenire poveri, a rimanere senza niente perché si consegna tutto per amore. Allora quando i cristiani sbattono contro questa richiesta allora si rendono conto che è dura. Se non abbiamo sperimentato il dolore di avere sbattuto contro la richiesta del Vangelo allora viviamo ancora nell'equivoco. Sentiamo adesso come Gesù vive questo momento di crisi dei discepoli. Gesù, sapendo dentro di sé che i Suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi ci sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe consegnato. E diceva, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli ha concesso dal Padre. C'è stato il rifiuto, l'opposizione dura e decisa da parte delle folle e dei giudei e adesso Gesù si rende conto che anche i Suoi discepoli rifiutano, si oppongono alla sua proposta. Viene impiegato lo stesso verbo gonguze e tradotto con mormorare. No, rifiutano la proposta di Gesù. E Gesù non si stupisce perché sa che questa è la difficoltà ad accettare di diventare come Lui, il dono di sé. Sacrificarsi per gli altri, anche per i nemici, umanamente è un fallimento. È dura da accettare questa proposta. Ecco lo scandalo, l'inciampo di cui parla il Vangelo di oggi. I discepoli rischiano di inciampare nel loro cammino al seguito di Gesù. Lo avevano seguito non per donare la vita ma per ricevere da Lui, speravano altro. E Gesù non si stupisce. Lui ha sperimentato come noi quanto è duro obbedire sempre allo Spirito. Gesù non obbediva a ordini che venivano dall'alto, obbediva alla sua identità di figlio di Dio, questa identità che è la vita dello Spirito. È lo Spirito che è stato donato a noi. E ascoltare sempre il figlio di Dio che è in noi, che ti chiede continuamente di amare, è duro e Gesù lo sa, dice la lettera agli ebrei. Proprio perché anche Lui è stato messo alla prova e ha sofferto personalmente, per questo è in grado di venire in aiuto di coloro che devono passare le stesse prove. Al capitolo 4 della lettera agli ebrei ancora, Gesù non è uno che non sappia compatire le nostre fragilità perché è stato messo alla prova in tutto come noi. L'unica differenza è che lui ha sempre seguito lo Spirito, noi invece tante volte sbagliamo. Invece di mitigare la sua richiesta, Gesù la accentua con una affermazione enigmatica, dice e se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima, cosa intende dire? Sta dicendo se voi adesso avete tanta difficoltà ad accettare la mia proposta, adesso che io sono con voi e voi vedete incarnata questa proposta che faccio a voi, cosa accadrà quando io sarò ritornato al Padre? Allora sarà ancora più duro dare l'adesione alla mia richiesta di donare la vita. E' quella difficoltà che la comunità di Roma ha presente quando scrive ai fratelli dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Bitinia, nella Cappadocia che sono perseguitati a causa della loro fede in Cristo. Si trova all'inizio della prima lettera di Pietro, dice voi amate Gesù senza averlo visto e ora senza vederlo credete in Lui, perciò esultate di gioia mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza della vostra vita. E' un momento di crisi quello che i discepoli stanno passando a Cafarno, come è un momento di crisi quello che stiamo vivendo noi oggi. Crisi non significa necessariamente un momento negativo, crisi viene da crinei che significa discernere, è un momento in cui si è chiamati a fare una scelta cosciente dopo aver capito bene che cosa comporta. E dai momenti di crisi si può uscire sconfitti o maturati. Dove attingere la luce e la forza per fare la scelta giusta nel momento di crisi? Lo dice Gesù a Cafarno, lo spirito è colui che dà vita, la carne non giova nulla, cioè in queste scelte la carne che indica la natura umana, l'uomo con la sua intelligenza, con tutte le sue capacità di discernere e di valutare, non ti suggerisce lui la scelta corretta, è lo spirito che te la suggerisce. Chi vuole comprendere la proposta evangelica deve avere il cuore aperto alla voce del figlio di Dio che è in lui? La voce della carne, cioè le nostre pulsioni istintive, ci portano in direzione opposta. Non deve quindi destare meraviglia che il Vangelo non venga accolto da chi si ostina a volerlo mettere d'accordo con il buonsenso umano. No. Continua Gesù, le parole che ho detto a voi sono spirito e vita, ma tra di voi ci sono alcuni che non credono e si riferiva a colui che stava per consegnarlo. A questo punto entra in scena questa figura enigmatica di Giuda che nel Vangelo di Giovanni diviene il simbolo dell'antidiscepolo, colui che consegna il maestro che non accetta la sua proposta, vuole continuare con i suoi sogni. Chi non accoglie il pane di vita offerto da Gesù si condanna a rovinarsi come uomo, si suicida come uomo, può avere in questo mondo una vita di successi, di gloria, ma come uomo si distrugge. In realtà Gesù non sta parlando del Giuda storico, ma del Giuda che è presente in ogni discepolo. Non ascoltare chi ti suggerisce, ed è la tua pulsione istintiva, ti suggerisce di fare scelte diverse da quella che ti propone Gesù. E adesso siamo curiosi di sapere come sono usciti dalla crisi questi discepoli esitanti di Cafarnao, discepoli che in realtà riflettono ciò che noi siamo oggi. Ascoltiamo. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici. Volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro. Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. La conclusione non è inattesa, c'era da aspettarselo. Molti dopo avere capito non seguono più Gesù, se ne vanno. La conclusione è amara ma è prevedibile. È ciò che accade anche oggi nelle nostre comunità. E questi discepoli che si allontanano non sono persone cattive, non sono dei traditori, sono delle persone coerenti che si sono rese conto che il Maestro sta esigendo troppo e non se la sentono di dargli il proprio assenso, si ritirano. E Gesù rispetta la libertà, perché la fede non viene da ragionamenti che vengono dalla carne, è un'adesione che si dà da innamorati a Cristo e non si può obbligare le persone a innamorarsi. Gesù non obbliga a condividere la sua scelta, non costringe a mangiare la sua carne. E queste persone che si sono allontanate allora come oggi e forse ci ripenseranno, anzi, se i fratelli che sono rimasti saranno dei discepoli autentici e daranno loro una testimonianza chiara di adesione al Vangelo, questi fratelli che si sono allontanati saranno stimolati a rivedere la loro scelta, proprio da una vita coerente dei loro fratelli che sono rimasti, hanno fatto la scelta di continuare ad aderire al Maestro. E adesso Gesù che guarda ai dodici, non al gruppo dei tanti discepoli, ma ai dodici che sono rimasti, e dice loro non vorrete andarvene anche voi. Traduciamo bene questa espressione che potrebbe essere interpretata nel senso di dire beh se volete andare andatevene anche voi. No, eh? Gesù non discute, non c'è più nulla da chiarire, il dialogo c'è stato e arrivati a questo punto c'è spazio soltanto per un sì o per un no. Il tempo del fidanzamento è concluso, adesso o ci si sposa o ci si lascia. E Gesù quindi provoca i dodici non per spingerli ad andarsene ma perché prendano coscienza della scelta che deve fare il vero discepolo a nome di tutti. Risponde Simon Pietro che aderisce alla proposta di Gesù. Ama Gesù e le sue parole anche se non le ha ancora capite pienamente, esattamente come noi. Abbiamo sentito la durezza della sua richiesta, non sappiamo, non abbiamo capito ancora tutto come Pietro. Ma ci siamo innamorati di lui, ci fidiamo di lui e gli diamo la nostra adesione. Questi discepoli di Cafarno come noi non sono perfetti, non hanno capito tutto ma celebrano l'Eucarestia dando l'adesione a Gesù anche se sono accompagnati da tanti interrogativi e da tante perplessità. Dice Pietro, noi abbiamo creduto, noi ci siamo fidati e continuiamo a fidarci di te perché sappiamo che tu sei il santo di Dio. Santo vuol dire diverso da quello che noi immaginavamo. Comincia nella loro mente, nel loro cuore l'adesione al volto vero di Dio che hanno cominciato a cogliere nel loro maestro. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.